Il servizio, fermo da oltre un anno, non è ancora ripreso ma già da mesi il commissario Rosario Arena ha confermato l'affidamento interno alla Ghelas Multiservizi. Intanto sono stati definiti i particolari più importanti della sosta a pagamento, almeno per le casse dell'ente. Il commissario che sta per concludere il mandato in municipio ha messo nero su bianco le tariffe che verranno applicate nella zona A, quella del centro storico, la tariffa oraria è di un euro con un massimo di 15 minuti di tolleranza, la tariffa unica per l'intera giornata invece di 6 euro, quella per la mezza giornata di 3 euro, mentre l'abbonamento mensile di 30 euro nella zona B che ricomprende tutte le altre aree della città dove sono previsti stalli a pagamento. La tariffa oraria è di 60 centesimi con un massimo di 15 minuti di tolleranza, la tariffa unica per l'intera giornata è di 3 euro e 60, quella per la mezza giornata di 2 euro, mentre l'abbonamento mensile è fissato in 20 euro. In totale sono 700 gli stalli per la sosta a pagamento, attivi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20. Nella zona del centro storico ne sono previsti 185, mentre in quella B sono 515. Le strisce blu con 20 stalli verranno inserite sul lungomare Federico II di Svevia, ma non nel parcheggio del tribunale come era stato originariamente ipotizzato. Le attività affidate alla Ghelas non sono ancora partite, da mesi va avanti la protesta degli operatori esclusi. A questo punto la nuova amministrazione troverà il servizio già definito e assegnato.